questo importante successo in campo esterno è stata una partita dai due volte perché il doppio vantaggio c'è un po spento l'entusiasmo infatti ci siamo un po adagiati il primo tempo è stato un brutto primo tempo secondo tempo ci siamo ripresi sul piano del gioco però sul piano delle conclusioni abbiamo sbagliato molto e questo mi dà fastidio perché le partite si chiudono perché abbiamo incontrato una squadra di ragazzi messe bene in campo che hanno dato l'anima che giocano bene a calcio e quindi bisogna avere rispetto chiudere le partite e continuare sempre a giocare il mele cucco ha avuto una decina di palle golle a parte il calcio di rigore parato ottimamente dal portiere ma è sempre un rigore sbagliato quando lo pare il portiere quando si tira il rigore bisogna stare concentrati bisogna capire anche il momento in cui si tira perché quel rigore avrebbe dato 10 minuti di riposo a tutti e di tranquillità invece non siamo stati cinici non siamo stati attenti poi gli errori rischiamo di pagarli alla fine c'è stato un contropiede che c'è ci poteva mettere in difficoltà questo purtroppo il calcio bisogna avere sempre il rispetto dell'avversario e non mollare mai perché io lo dico sempre ai ragazzi bisogna avere sempre attenzione non mollare mai la presa ed essere anche perché nella posizione in cui noi siamo non ci possiamo permettere nessuna disattenzione sono quattro mesi che rincorriamo 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 non dobbiamo sprecare il bel il bello e il bene che abbiamo fatto quindi dobbiamo stare sempre concentrati e sperare in un passo falso della cinque frontese ha giocato partite quasi perfette l'ameritese ma spesso ha raccolto soltanto un pugno di mosche come oggi sì oggi abbiamo giocato abbiamo giocato contro la seconda in classifica con delle motivazioni il melicuc aveva delle motivazioni diverse dalle nostre noi abbiamo giocato rilassato abbiamo giocato senza avere quasi nessun interesse per quanto riguarda la classifica metti poi che abbiamo preso due gol a freddo dopo cinque minuti credo perdevamo già 2 a 0 quindi una partita complicata che però siamo poi riusciti ad avere una meravigliosa reazione non c'è stata una reazione arrabbiosa comunque siamo riusciti a giocarcela in certi momenti anche alla pari con loro loro hanno meritato di vincere hanno dimostrato di essere una buona squadra anche se l'ameritese al novantesimo ha avuto la palla del 2 a 2 sì abbiamo avuto la palla del 2 a 2 anche prima abbiamo avuto qualche altra occasione ce l'hanno avuto anche loro ti ripeto loro avevano delle motivazioni sono secondi in classifica non per caso era una partita decisiva per loro per noi invece è una partita di fine stagione era una partita che però noi abbiamo giocato abbiamo anche rischiato di pareggiare abbiamo rischiato anche di prendere il terzo gol e poi c'è stata la protezza di mante sul rigore in altre due tre occasioni abbiamo rischiato di prendere il terzo gol ma abbiamo anche rischiato di segnare il secondo gol e di pareggiare la partita grazie a tutti